Emergenza freddo e volontari e riduzioni del CISOM in aiuto degli invisibili. Si è messa in moto anche a Siracusa la macchina dell'assistenza del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, CISOM, in favore dell'esercito dei senza tetto che popola le nostre città, che nei mesi invernali si trova ad affrontare un nemico in più, il freddo. Stando alla Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora, in Italia ci sono più di 50.000 senza tetto, tra i quali nei primi 11 mesi dell'anno sono state registrate 325 morti legate alle condizioni di precarietà in cui vivono. Da oltre 10 anni i volontari del CISOM hanno avviato in diverse regioni progetti e iniziative per garantire il diritto alla salute delle persone che vivono una grave marginalità sociale. Da quando è esplosa la pandemia sempre più persone si rivolgono a noi chiedendo aiuto, dichiara Gerardo Salaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Tra vecchie e nuove povertà sono tanti coloro che prima, seppur a fatica, riuscivano ad arrivare a fine mese con le proprie forze, ma adesso non ce la fanno più. C'è chi si ritrova a vivere in strada a seguito di tensioni familiari non risolte, chi ha perso l'occupazione e fatica a rientrare nel mondo del lavoro, chi non riuscendo a pagare l'affitto di casa ora è costretto a dormire in macchina. Tra di loro ci sono anche molti giovani, una lotta quotidiana per la sopravvivenza alla quale il CISOM non resta indifferente. I nostri volontari sono al loro fianco giorno dopo giorno, notte dopo notte. A Siracusa da fine novembre ogni martedì dalle 21 in poi attiva la ronda solidale. Per le vie del quartiere Ortigia i volontari distribuiscono pasti caldi donati da panifici e forni della zona insieme a coperte senza fissa dimora e persone più fragili.